Un improvvisato e male armato esercito di adolescenti che disobbedì a Salò. Un'irreale crociata di fanciulli, cappeggiati da comandanti appena più grandi di loro. Molti giovani, madri, vedove, sorelle, fidanzate, passarono due anni durissimi in mezzo ai boschi, alle montagne, agli stupri, alle fucilazioni. Avevano tutti 18 anni, leva militare 926. Oggi, oggi quei ragazzi hanno 80 anni e i loro superiori, i comandanti delle brigate partigiane, Cartavelina. Grazie a tutti.